Buongiorno signori, aspettavamo aggiornamenti dall'Inps che finalmente sono arrivati, anche se come al solito un po' in ritardo. Io sono Mr. Lul e oggi vediamo come richiedere il bonus da 1800 euro per oltre 350.000 lavoratori non più esclusi 2020. Ufficiali per marzo, aprile e maggio, i bonus da 600 euro per lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio. Quindi 1800 euro da richiedere online attraverso il servizio Inps Indennità Covid-19 con modalità del tutto analoghe a quelle già utilizzate per le altre indennità. Si può quindi già fare richiesta e se non avete le credenziali, basta anche il PIN semplificato, potete fare tutto tramite contact center o intermediari abilitati. Fatta la domanda, le tre mensilità verranno pagate tutte insieme senza dover aspettare quindi tre tranche, insomma meglio così. Importante, i lavoratori stagionali che si sono visti respingere la domanda di bonus a marzo, proprio perché non appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali, non devono presentare una nuova domanda, semplicemente quella vecchia verrà riesaminata ad ufficio dall'Inps. Ecco magari io sentirei e solleciterei l'istituto per evitare insomma che i tempi si dilatino ulteriormente. E detto questo signori, io come al solito vi saluto, vi ringrazio, buona domenica e noi ci vediamo come al solito ovviamente in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.